L'avete letta? Eh? No, dico, l'avete letta la lettera di mio padre? Eh? Oh no? Eh, io voglio sapere perché non mi posso sposare con la principessa di Medina. Perché le belle sposate? Eh beh, è un piccolo incidente. Non può capitare al marito in Inghilterra un piccolo incidente. Sì, sì. Umberto Galeano è una bambina. Sì, bambè, ma che bambè? Ma non te ne ricordi quando andava a scuola con lo zainetto, i pelussi, i brunfoli? Sì, bambè. Popolo di Napoli, ascoltatemi! Dopo secoli di oppressione è arrivato il momento di dire basta! Viva il re di Spagna! E mora! Il malgoverno del vicere! C'era il bambè e il caffè. Eh beh, commissario, se mi dà un minuto, scendiamo giù insieme, io l'offro io. Ora, con tutto il rispetto, voi a Milano il caffè non lo sapete fare. Lo sai che uno che rinuncia ai suoi sogni è un uomo morto, eh? Lo sai per questo, siamo tutti morti viventi. Grazie! 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 Grazie!